In ottica superiore, chi vedi meglio i scontaggi? Chi vedo, è un campionato strano, non c'è nessuno ad oggi che ha allungato, tant'è che noi con 9 punti dopo 8 giornate, che sono una miseria, siamo solo a 9 punti dalla vetta, per cui significa che un po' tutti stiamo stentando, ci sono tante sorprese e probabilmente nel prossimo mese e mezzo si delineerà una classifica un po' più, chiamiamola normale.